No, il centrodestra, tutti i candidati sindaci di centrodestra hanno perso, a Roma non c'era la Lega e Alemanno ha perso pesantemente. Questo è il dato negativo su cui riflettere. C'è una valutazione però di ottimismo che io metto e cioè i nostri voti non ci sono perché la gente non è andata a votare, non ha votato sinistra, non è andata a votare perché è delusa, perché non ha considerato i nostri candidati all'altezza per una serie di motivi su cui stiamo riflettendo e su cui lavoreremo per recuperare il consenso perso. È un consenso congelato, non è un consenso che ha cambiato sponda e mi conforta il fatto che ancora ieri all'Assemblea degli Industriali il neo presidente di Asso Lombarda ha sottolineato l'importanza che riveste la questione settentrionale e il tema del Nord che è la bandiera della Lega. Dobbiamo tornare a farla sventolare, ci sono i tempi e le condizioni, io dico di sì. e quindi prendiamo atto dell'esito negativo delle consultazioni ma siamo pronti a ripartire per riconquistare il consenso perso.